non andrò ad utilizzare gli aiuti in modalità pro però consiglio a chi ha le prime armi di utilizzarli perché vi rende la vita più facile vai adesso tocca a te bremi la freccetta a sinistra fino a che vediamo easy ok andiamo in pista andiamo vai a destra tieni questa traiettoria bella oddio che rischio oddio che rischio